vediamo l'inclinazione fammi scrocco sempre la sola io o meno no si si lascia eccola la più qua o più qua? più di qua due Girl Yes Do vi S Styro Chairo Attrae gli Chairo Chairo non mi sento che sia il tricco a fare un'altra cosa perché tutti i chiropractici sono molto apprezzati quindi vediamo i video e ora il movimento a destra e sinistra è completo vediamo l'inclinazione fammi scrocco sempre da sola ah allora di che paura? no ho paura di scrocchi pesanti io li sento, i miei sono più leggeri sono perfetto soft male qui? infatti pensavo allora vediamo un po' alla tentazione cosa troviamo? il tastiglio qua si bene tutto il lato della cervicale è bloccato ma proprio un'unica lastra ah perfetto adesso testo un po' i riflessi e la distribuzione della pelle ecolistia ecolistia cos'è? con la mia migliore amica ah ok io ho eudaimonia bastare a si stessi eudaimonia eudaimonia è il raggiungimento della felicità attraverso il confimento eudaimonia no si si mi ricordo stessi un po' come un'evoluzione di ciò che diceva allora quello di delfino conosci te stesso e sarai felice si non me li farà aprire ok non me li farà aprire non me li farà aprire bravo non me li farà aprire eeeh trovate qui si apre su c7 numero fortunato il 7? si stringi con questo ci taglio la pizza infatti si sente che è pesante stringi 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 15 ora facciamo vediamo se riusciamo a fare anche 57 jaspen ok vediamo ok vieni a pancia in aria mi stendo? si 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 vediamo chi li conta rilassata allora tu sai quella bomba più corta? mi sembra questa che è più corta questa ok infatti credo che avrei un po' di tensione qua quando premo vero? mh mh di qua di meno mh però se vengo sull'esterno dovrebbe essere un po' più qua e qua di meno si ti torna? si sul bacino qua un po' eh qua e poi un po' qua qua meno mh ok abbiamo trovato il 9 57 no? no qua no ancora no questi sono tranquilli no? mh ok testiamo un po' dritti i guamiti tenendoli dritti spingili insieme vai forte 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 ok gira la testa di qua spingi spingi non ce la fai vai no gira la testa bene spingi niente gira di qua spingi neanche di qua lo sai perchè? ci sono quei blocchi cervicali ah si? li tolgo subito ok? quindi mi sento per sentirei un po' di cracks però ti guido attraverso adjustment ok? non faccio tra ok allora abbiamo trovato c5 qua eccolo allora spostiamo così io faccio poco più di questo mi hai concesso? ok ah ha fatto male? no hai visto? e poi abbiamo qua rilassata c7 lo faccio dopo la pancia sotto adesso faccio questo più su rilassata lascia lascia ecco qua batti le gambe ok sei ancora riva si bene ok hai fatto male? un po' dove? al piede o all'anca? no no qua 0 0 2 no che posto è la sera? lascia 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 va bene va bene mano qua questa un po' più dentro perfetto qua rilassata lascia lascia marbida marbida ecco ecco fatto aspetta partiamo la non hai i ribbiocchi eh? eh poi la schiena ti tengo a cavallare ora ci arrivo mano qua yes lascia 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 eccola ok spingi su questa gamba con il ginocchio steso vai forte eh no morbida così ah ok di qua ok i muscoli ancora sono rimasti un po' disfunzionali ok senti qua che fa un po' male si questi sono gli scaleni ok eh lo so piano piano poi facciamo tre piccoli flick della testa star nucleido tre piccoli già mi rompono da orecchio perché? bravissima pancia sotto e guarda testa nel buco giù perfetto stai rilassata? allora ti passo un massaggiatore la cosa buona è che tu molto probabilmente non dormirai a pancia sotto vero? no però non soffro tanto in che senso c'è nel senso il dottore che mio però mi disse dura per un po' di tempo non riuscirà a dormire a pancia ok ma infatti mi faceva male quando ti passava quel col più qua o più qua? più di qua allora vieni appoggiata sul fianco destro girata verso la tua minta che ti chiami? non riuscirà non riuscirà non riuscirà non riuscirà mano sulla spalla questa sopra rilassata oddio non riuscirà basta solo appoggiarsi eh vediamo di la non riuscirà non riuscirà la chirurgia è delicatissima infatti fatta bene quella fatta bene ma mi aveva preso coraggio quindi mi fa sempre hai visto che non c'è pericolo? no mamma diceva no e poi mi porterai pure mamma si cioè non necessariamente in visita però la porti con te così vede che si mamma fra mamma avvisi va bene va bene ok vieni seduta gira da verso Nunzia Nunzia va bene hai ora questa mano qua dietro rilassata non voglio il braccio lascia 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 ok l'altra rilassata rilassata wow che apposta allora mi impieni sempre verso la maschia con le mani così ti chiedo di spingere leggermente indietro il vomito contro il mio mi attira un colpo secco veloce più veloce più veloce ok va bene così dammi un altro spingi indietro veloce eccolo qua riproviamo quello spingi indietro veloce questo non va girata di schiena provo ad allungarti un po' qui ok ok mani qua dietro ok chiudi il vomito e tieni stretti 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 strettissimi tasto giù e ti tiro strettissimi strettissimi devo camminare ti tengo ok eccolo la sentito? sì bellissimi ok un cabello sì no una ciocca proprio ah una ciocca camminare un po' mi dici come ti senti per favore sento benissimo ma hai venuto prima? sì collo dottor video dottor video dottor video dottor video dottor video or video like DO there is a new video see you a presto a presto a presto